Stai indietro Sei mai stato in questi posti? Cosa, un'università? No No, non da studente almeno Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara Sei stato sposato? Per un po' Cos'è successo? Ok Troppo Troppo Sera meglio Vai, indietro Troppo Sì Sì ehi guarda la giù si sembra una via d'accesso ok non era quello che avevo in mente ma andrà bene ok Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Grazie. Ecco, fatto. Ok. Ehi, luci! Qui c'è la cura per l'umanità. C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Non capisco. Grazie a tutti Non ci sono corpi? È un buon segno, no? Scopriamo dove sono andati 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 Beh, almeno non sono flicker Sì E non ci sono luci Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa Alla prossima Alla prossima